4R101 Lo stimo tantissimo Addentriamoci di nuovo nel nostro argomento Che ci piace, quello della domenica Cosa fate la domenica? Lavorate, state a casa Ma è il momento dei lavoratori Dai, dedichiamo più tempo a loro Hanno bisogno di più coccole E soprattutto vogliamo parlare Del perché hanno scelto di lavorare Ognuno ha la sua Sono arrivati bei messaggi